Sul Mona, situata al centro della larga conca cui dà nome, storicamente la Valle Peligna, è allungata tra i torrenti Vella e Gizio, spicca per aver dato i Natali al poeta latino Ovidio, per la sintesi d'arte gotico rinascimentale e barocca del complesso dell'Annunziata, con l'annesso museo civico e per l'antica tradizione del confetto, di cui è patria incontrastata. Pasticcerie, confettifici, perfino un museo consentono di approfondire la conoscenza di queste prelibatezze di zucchero e spezie, senza dimenticare il tenerissimo torrone al cioccolato di Sul Mona e gli scarponi dolci in cui entra anche il mosto cotto. L'immediato orizzonte gastronomico della Valle Peligna propone gli aromi del ricercato aglio rosso di Sul Mona, quelli del tartufo nero, oli extravergini da cultivar locali adatti alla severità del clima e vini Doc, Montepulciano e Trebbiano d'Abruzzo e i GT, Valle Peligna. Proprio il vino, di storia plurisecolare su questi colli addossati alla montagna, è il filo conduttore di una strada tematica detta di Tremonti e della Valle Peligna, che va da Pescara all'Aquila e ha come centro geografico enologico proprio il territorio e l'area intorno a Sul Mona, Prato la Peligna, Vittorito e Corfinio. Il tratto da Pescara a Popoli, la chiave dei tre Abruzzi, l'Aquilano, il Sulmonese e il versante Adriatico dell'Appennino, consente un'interessante diversione a tocco da Casauria con la vicina splendida chiesa abbaziale di San Clemente a Casauria e la promessa di un assaggio di liquore centerbe e Moscatello di Castiglione, prodotto da un ecotipo locale di Moscato. Di qui a Caramanico Terme, punto di partenza ideale per escursioni nel Parco Nazionale della Maiella e invito alla ricerca di prosciutti di montagna, pecorini, ricotte da grattugiare, salsicce di cinghiale per aziende e botteghe. A Popoli stessa si acquistano caciotte, caciocavalli, ricotte della migliore tradizione abruzzese. Non lontano da Popoli, verso l'Aquila, è Capestrano, uno dei centri dell'enologia aquilana con il DOC Montepuciano d'Abruzzo e l'IGT Alto Tirino, il cui nome si associa anche al celebre guerriero italico ritrovato in loco e oggi al Museo archeologico nazionale di Chieti. In direzione opposta, oltre Corfinio, invita a una sosta la romanica basilica di San Pelino o Valvense, ancora oltre i frutteti di ciliegie di Raiano. Sulmona, sulmona in abruzzese, sulmona fino al 1902, è un comune della provincia dell'Aquila, i cui abitanti sono detti sulmonesi e sulmontini in dialetto. Situata nel cuore dell'Abruzzo, a ridosso del Parco Nazionale della Maiella, sulmona è nota nel mondo per la secolare tradizione della produzione dei confetti. Già Oppidum de Peligni, successivamente municipio romano, nel 43 a.C. Sulmo diede i Natali al poeta latino Publio Ovidio Nasone, che di lei scrisse «Sulmona è la mia patria, ricchissima di gelide acque che dista 90 miglia da Roma». Nel Medioevo, per volontà di Federico II, fu dal 1233 al 1273 sede del giustizierato d'Abruzzo. Sulmona sorge al centro della valle Peligna, tra il torrente Vella ed il fiume Egizio, ad ovest delle montagne della Maiella e del Morrone, che sovrastano la città. Il territorio della valle Peligna, il cui nome deriva dal greco peline, che significa fangoso, limaccioso, in età preistorica era occupato da un vastissimo lago. Poi, a seguito di disastrosi terremoti, la barriera di roccia che ostruiva il passaggio verso il mare dell'acqua, crollò e il terreno rimase fertile. Gli antichi scrittori, tra i quali Ovidio e Silio italico, concordano sulla remota origine di Sulmona, ricollegabile alla distruzione di Troia. Il nome della città deriverebbe infatti da Solimo, in greco antico Solimos, uno dei compagni di Enea. Le prime notizie storiche, però, ci giungono da Tito Livio, che cita l'Opidum italico e narra come la città, nonostante le battaglie perse del Trasimeno e di Canne, rimase fedele a Roma, chiudendo le proprie porte ad Annibale. Sulle alture del Monte Mitra si hanno testimonianze archeologiche dell'Opidum. Si tratta di una zona posta più in alto della sede attuale della città, che assunse tale posizione solo nel periodo romano. Durante l'epoca romana, Sulmona, allora nota come Sulmo, fu sede di uno dei tre municipi peligni, assieme a Corfinium e Superecum. Poi, nell'81 a.C., si ebbe il secondo avvenimento narrato dagli storici, ossia la distruzione della città da parte di Silla, a seguito della ribellione per ottenere l'integrale applicazione della Lex Cornelia de Suffragis. Dopo 32 anni, però, si ebbe la rinascita, con la costituzione di una guarnigione pompeiana, che dovette però arrendersi a Marco Antonio, inviato da Cesare, per l'ennesima rivolta dei sulmonesi. La data storica più importante per Sulmona è il 43 a.C., anno di nascita dell'illustre poeta latino Publio Ovidio Nasone, il cantore dell'amore e delle metamorfosi, poi relegato a Tomi, in Romania, dall'imperatore Augusto. La relegazio, a differenza dell'exilium, non comportava la perdita della cittadinanza romana e dei diritti conseguenti, né comportava la confisca dei beni. Dalle iniziali del celebre e mistico ovidiano Sulmo Michi Patria Est, la città prese le lettere contenute nel suo stemma S.M.P.E. Scrisse Ovidio, Sulmona è la mia patria, ricchissima di gelide acque, che dista 9 volte 10 miglia da Roma. E ancora, sono a Sulmona, terzo dipartimento della campagna Peligna, piccola terra ma salubre per le acque che la irrigano. Nei campi Peligni scorrono limpide acque, terra fertile di grano e molto più fertile di uve. Le acque alle quali si riferisce Ovidio sono quelle sorgive del fiume Egizio. Le tracce della Sulmona romana sono riemerse dagli scavi nel tempio di Ercole Curino, posto ai piedi del Montemorrone, in cui, secondo un'antica leggenda, vi sarebbero anche i resti della villa di Ovidio. Le ricerche hanno portato alla luce anche una copia in bronzo, rappresentante l'Ercole a riposo, un bronzetto dono di un mercante, databile intorno al 300 a.C., rappresentante l'eroe appoggiato col braccio sinistro sulla clava da cui pende una pelle di leone, che viene considerato uno dei capolavori della piccola plastica antica. Oltre all'Ercole, naturalmente, sono stati ritrovati materiali architettonici e immagini votive. La tradizione fissa, nel 200, l'avvento del cristianesimo a Sulmona. Inizialmente il territorio peligno era costituito da un'unica grande diocesi, quella di Valva, a cui si aggiunse quella di Sulmona dopo controversie nate con il capitolo di Corfinio. Tuttavia, la prima notizia di un vescovo sulmonese risale al 400. La dinastia degli svevi agì a sostegno di Sulmona, costringendo il vescovo a porre la sua sede entro le mura della città. Durante il regno di Federico II si ebbe la costruzione di eccezionali opere civili, come l'Acquedotto Medievale, uno dei monumenti dell'epoca più importanti dell'Abruzzo. Dal punto di vista politico, Sulmona divenne comune sotto i normanni e, unita alla Marsica, costituì un'unica grande provincia. Federico II, grazie agli statuti melfitani scritti ed emanati nella città di Melfi, promosse la città a capitale e sede della Curia di una delle grandi province in cui divise la parte continentale del regno. Infine, Sulmona fu sede del giustizierato e di uno studio di diritto canonico equivalente a quello di Napoli. Importantissima, inoltre, la disposizione per cui, delle sette fiere annuali che si tenevano in sette città del regno, la prima, dal 23 aprile all'8 maggio, si svolgesse a Sulmona, Primae Nundine Erunt Apud Sulmonam. Alla fine del 1200, Sulmona seguì da vicino la vicenda del Papa di missionario Fra Pietro da Morrone, meglio conosciuto come Papa Celestino V. Oltre alla vicenda più nota, si ricorda la nascita a Sulmona della congregazione monastica degli eremiti di San Damiano, poi detti Celestini. La cella di Celestino V è ancora visitabile nel vicino eremo di Santo Nofrio, al Morrone. Nel 1300, Sulmona ebbe una propria zecca e battee monete che recavano sul dritto le iniziali del motto ovidiano S-M-P-E, Sulmo, Mihi, Patria Est, inserite ciascuna all'interno di un quarto del campo partito da una croce, mentre sul rovescio portavano l'immagine di Pietro da Morrone in abiti papali. La caduta degli svevi portò all'avvento degli angioini, che osteggiarono fieramente la città, non perdonandole la fedeltà a Federico II e il successivo appoggio al giovane Corradino di Svevia. Così Sulmona venne privata del giustizierato e poi della facoltà di diritto canonico. Nonostante tutto, nel 1300 la città triplicò la sua superficie e si cinse di una seconda cerchia di mura e di ben sei porte. Sempre in questo secolo si costruì il palazzo dell'Annunziata, dapprima asilo per orfani, poi ospedale ed oggi uno dei simboli della città. Nel corso del 1500 nacque la scuola Orafa Sulmonese, i cui manufatti avevano impresso il marchio Sul. Si ebbe la nascita dell'industria della carta e furono impiantati vari opifici lungo il fiume Egizio. Anche il commercio ebbe una notevole crescita, grazie al mercato di stoffe preziose, la seta Sermontina. Venne innalzato inoltre il campanile dell'Annunziata, che è ancora oggi la costruzione più alta della città, con i suoi 65 metri e mezzo. Alla fine del secolo, infine, fu introdotta l'arte della stampa, grazie al letterato e studioso ovigliano Ercole Ciofano, grazie al quale vennero edite le opere di Ovidio e pubblicati i capitoli della giostra cavalleresca. Nel 1610, dopo che per tutto il 1500, ossia dal 1526 al 1600, era stata tenuta dalla famiglia della famiglia della Noi, venuta a seguito di Carlo V, che la diede loro col titolo di principato, la città fu nuovamente infeudata con titolo principesco a Marcantonio II Borghese, nipote di Papa Paolo V, dal re di Spagna Filippo III. Nel 1656 fu dismessa la giostra cavalleresca, che si teneva due volte l'anno, per mancanza di cavalieri, oltre che per la terribile peste. La manifestazione rinacque poi nel 1995. Ma il 1600 fu anche il secolo in cui le chiese sulmonesi vennero dotate degli organi di tipo italiano, opera di organari locali. Il 3 novembre 1706, tre anni dopo quello dell'Aquila, si verificò un disastroso terremoto che distrusse l'intera città e che risvegliò la cittadinanza alle 13 circa. I morti furono oltre mille, quindi praticamente un quarto della popolazione. Molti danni. Fu semidiroccata la cattedrale, con rovina degli affreschi, crollo delle volte e della copertura, danneggiamento della facciata e dell'abside. Rimasero rovinate tutte le chiese antiche, alcune delle quali non più ricostruite, rovinate le porte urbiche, caduti a terra a tratti di mura, crollate alcune arcate dell'acquedotto medievale. Poco rimase dei palazzi e delle chiese che sulmona vantava.